Dopo la primavera araba, sabato e domenica a Marsiglia, si torna a discutere di un'unione per il Mediterraneo. Questa volta su iniziativa del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, che incontra i presidenti dei parlamenti della regione. Obiettivo garantire una transizione democratica dei paesi arabi. Il punto è come riuscire a lavorare con dei partiti politici islamici, come questi possano arrivare a trovare un terreno d'intesa con i loro omologhi europei. L'Unione per il Mediterraneo è un progetto lanciato da Sarkozy già nel 2008. Da allora però molto è cambiato nei paesi della regione a causa della crisi economica e delle turbulenze politiche dovute alla primavera araba. Bruxelles vuole avvicinarsi al Mediterraneo, assicurandosi una vittoria della democrazia sui regimi. Moltesimi studi hanno rivelato che l'azione esterna, soprattutto quella operata dalle istituzioni internazionali, ha avuto scarsissimo impatto. Non bisogna quindi farsi illusioni se non ci saranno cambiamenti radicali dopo l'incontro. Il consolidamento delle relazioni culturali e commerciali tra i paesi del Mediterraneo è necessario anche per l'Unione europea in questo momento di forte crisi economica. Molti progetti in cantiere, dalla strategia per le imprese del Mediterraneo alla creazione di nuove infrastrutture. Grazie. Grazie.